Ci troviamo al bar 2.0 in Viappia con Enrico Martello. Ciao Enrico, grazie per aver scelto di testimoniare questa spiacevole vicenda che ti ha riguardato e che sta facendo il giro dei social. Tuo malgrado hai ricevuto un licenziamento, poi spiegherai anche le modalità rituali, comunque tu sei un insegnante. Precario, sottolineiamolo. Di seconda fascia teoricamente, allora facciamo una cosa, fai un escursus della spiacevole situazione che ti è capitata e che purtroppo rende questo paese poco stabile e crea questa precarietà nei giovani proprio perché succedono cose di questo tipo. Cercherò di essere quanto più conciso possibile anche perché ho pubblicato proprio ieri sera sul Tardi un video dove ho spiegato tutto in maniera molto dettagliata. Però brevissimamente noi ex studenti di conservatorio di vecchio ordinamento negli anni passati, nei due o tre anni passati abbiamo fatto un ricorso al giudice del lavoro grazie al quale c'è stata riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento in via cautelare. Spieghiamo perché, cioè la normativa nazionale diceva che voi, insomma diplomati al conservatorio, non avevate l'abilitazione per rientrare nella seconda fascia e quindi per insegnare. Vabbè, questa cosa perché non è mai, ma questa è una faccenda annosa di tutte le classi di concorso, non solo di noi musicisti, perché dall'alba dei tempi non c'è mai stato un percorso regolamentare che consentisse l'abilitazione degli insegnanti. Ora, se tu vuoi fare l'avvocato, l'esame di abilitazione lo puoi fare ogni anno, idem per gli architetti, idem per gli ingegneri, tranne che per gli insegnanti che dobbiamo sempre stare lì con le mani rivolte al cielo nella speranza che prima o poi, chissà quando, vengano fuori dei percorsi abilitanti che adesso si chiamano TFA, anzi che passa, all'epoca erano le SIS, ma dietro questa faccenda potremmo parlare ore e non venirne mai a capo. E quindi è tutto aleatorio e dicevi tu hai vinto questo ricorso, in realtà un ricorso che ha ricevuto un orientamento particolare, sono pochi i tribunali, le sedi che hanno ricevuto questo orientamento favorevole a voi, positivo, Benevento è un'altra sede, quindi diciamo che se è stato in un primo momento in via Cattelare è fortunato. Sì, alcuni di noi in questi due o tre anni poi hanno avuto anche l'accoglimento durante la sentenza di merito e quindi sono anche passati giudicati, adesso sono intoccabili in seconda fascia ed è successo che in questi due anni alcuni giudici se ne sono andati, poi ne sono arrivati altri, poi abbiamo avuto un sacco di rinvii e quindi con questo allungamento del broto nel frattempo nel tribunale di Brindisi è cambiato l'orientamento e in molti nostri casi gli stessi giudici, giustamente, non è che perché purtroppo si devono uniformare all'orientamento dell'ufficio del lavoro, gli stessi giudici hanno dovuto contraddire le loro stesse sentenze che in un primo momento ci hanno accolto e adesso ci hanno rigettato e quindi come ho già detto nel mio video, per la prima volta nella storia della Repubblica molti di noi sono stati due o tre anni presenti nella seconda fascia, quindi noi siamo stati abilitati e dopo tre anni... Un contratto annuale, spieghiamo cosa vuol dire rientrare nella seconda fascia, che tu tramite questo prerequisito potevi firmare un contratto come è accaduto quest'anno con una scuola media del capoluogo di Brindisi. Esatto, infatti molti di noi hanno avuto finalmente l'opportunità di lavorare annualmente per due, anche tre anni, grazie a questo ricorso vinto, poi magicamente dopo tre anni, perché l'orientamento del Tribunale di Brindisi per ovvie motivazioni è cambiato, devo essere onesto intellettualmente, perché nel frattempo c'è stato il parere del Consiglio di Stato che si è dimostrato negativo, quindi nel frattempo il Tribunale di Brindisi si è uniformato. La mia personale critica sta nel fatto che almeno quelli, ma è una critica strettamente personale, almeno quelli che stavano in ballo come me, che io ero in ballo dal 2015 con questo ricorso, il mio ricorso è partito dal 2015, cioè almeno sanarli. Poi cambio l'orientamento, benissimo, di questi ricorsi non li accogli più a prescindere. Tra l'altro a parità di titoli qualcuno si trova ancora nella seconda fascia e qualcuno è stato declassato brutalmente durante l'anno. Andrea, consentimi di dire, qualcuno è entrato in ruolo, qualcuno sta entrando in ruolo, noi non solo stiamo perdendo l'abilitazione, ma come nel caso mio in questi giorni stiamo venendo licenziati. In maniera rituale, spieghiamo perché anche questo, ti ha un attimo colto, ti ha lasciato pensare il fatto che tu l'abbia saputo tramite il tuo avvocato e non tramite una nota formale? Peggio no, l'ho saputo tramite una telefonata, mi è arrivata una telefonata dalla scuola per la quale lavoravo e mi hanno detto, guarda, domani il tuo contratto verrà sciolto perché è arrivata la sentenza, mi hanno detto, ma in quel caso alla segreteria dove sto lavorando non deve arrivare la sentenza, deve arrivare una cosa che si chiama la comunicazione della scuola capofila, che è la scuola dove io tre anni fa ho lasciato le carte per entrare in graduatoria. Questa scuola capofila non ha fatto il decreto di depennamento, però mi ha messo direttamente in terza fascia e successivamente non ha fatto la comunicazione di depennamento contestuale a me e alla scuola capofila. Quindi i presidi, probabilmente colti da forti difficoltà, non lo metto in dubbio, anche qua stanno succedendo molte disparità perché alcuni presidi almeno stanno avendo la decenza di prendersi i 180 giorni di tempo, di aspettare i 180 giorni perché sono i tempi giuridici per il passaggio ingiudicato di quella sentenza negativa perché io in questi 180 giorni posso andare in appello, posso avere il tempo di andare in cassazione, quindi la mia sentenza, che ovviamente poi verrà appellata, perché su questo non c'è dubbio, ma non è ingiudicata. Quindi in seconda istanza non è ancora stata depositata in cancelleria, quindi non è esecutiva. Ora non voglio utilizzare termini troppo legalesi, però le incongruenze sono tante. Questo è il discorso. Immagino tra l'altro che tu abbia sostenuto delle spese forte del fatto che hai avuto il ricorso positivo e quindi hai partecipato a dei concorsi? Sì, io nel 2018 ho fatto il concorso a Salerno, a Benevento. Guarda, quella a Lecce non lo conteggio perché diciamo che Lecce è qua dietro, però ci sono state delle spese ingenti perché comunque abbiamo dovuto pagare i viaggi, vitto, alloggio, eccetera, eccetera. Perché? Perché gli stessi giudici l'anno scorso dicevano sì, c'è titoli per poter andare a fare questi concorsi. Adesso non sappiamo che fine faranno questi concorsi. Ecco perché parlavo all'inizio di un paese che non tutela i giovani e che li costringe in una situazione di precarietà costante perché tu hai fatto giustamente affidamento su qualcosa di formalmente inoppugnabile salvo poi scoprire che è. Sì, come ho già detto a Brindisi si è venuta a creare una situazione di figli e figliastri. Ora io sono contentissimo perché è riuscito a spuntarla, per carità di Dio. sento dei colleghi che stanno minacciando dei ricorsi contro chi ce l'ha fatta, che è una cosa che è ovviamente ridicola e che non si potrà fare, però quantomeno sarebbe stato opportuno da parte dei giudici salvare chi era ancora in ballo e magari non accettare più i nuovi ricorsi perché l'orientamento è cambiato, ma tenere conto di chi era in ballo da 3-4 anni. I sindacati, nel tuo video sei stato piuttosto duro anche nei loro confronti, ti sei sentito poco tutelato? No, no, non voglio dire che mi sono sentito poco tutelato e non voglio… Magari a caldo ti è scappato qualcosa? No, no, però diciamo loro stanno cercando, anzi soprattutto il sindacato Will, col quale mi trovo io, sta cercando di salvare il salvabile facendo delle indagini su quali sono le scuole dove noi possiamo rientrare, si stanno praticando da questo punto di vista. Per non saper né leggere né scrivere, se io fossi stato un referente sindacale magari dei piani un po' più alti, magari avrei fatto una contrattazione, non lo so, quello sì, perché comunque la cosa che io conto è stata la forma, perché noi docenti che versano in queste condizioni stiamo venendo licenziati neanche se stessimo lavorando a progetto nei peggiori dei call center, con tutto il rispetto nei confronti dei lavoratori di call center, perché ho anche lavorato in un call center peraltro. Poi abbalerti della facoltà di non rispondere, visto che stiamo parlando come dici tu, il legalese, però mi ha colpito anche il fatto che tu hai seguito della denuncia, hai anche ricevuto delle critiche velate, rimaniamo sempre molto soft perché la vicenda è delicata. Qualcuno mi ha fatto notare che magari qualcuno dei piani alti dell'amministrazione può utilizzare il video che ho fatto e denunciarmi per diffamazione, ma che lo facessero. Sono oltremodo convinto di non aver diffamato nessuno. Mi sento oltremodo insultato io a essere trattato in questo modo dopo tanti anni di studi, di esperienze e di sacrifici. Io, che in questo momento, mi permetto di rappresentare tutti i colleghi che versano in queste condizioni. Allora, noi ovviamente ti auguriamo il meglio, tu hai già preannunciato che impugnerai questo provvedimento. Sì, sì, sì. Io sono stato licenziato a seguito di un contratto che non... Tra l'altro mi spiegavi prima privatistico. Sì, secondo me sono strani. Ora non voglio fare quello che è esperto in leggi, però per quanto ne so io, avendo letto parecchio riguardo, noi supplenti siamo soggetti a dei contratti privatistici. Noi in realtà non abbiamo fatto un contratto a tempo determinato col Ministero, ma con la scuola che ci sta chiamando, che ha bisogno dei supplenti. Per quell'anno sono dei contratti privatistici e per quanto ne so io, per il contratto collettivo nazionale del lavoro, non si può sciogliere un contratto in maniera così unilaterale. Quindi non ti aspettavi un intervento a gamba tesa del provveditorato? Sì, del provveditorato o comunque una risoluzione così tempestiva del Preside in quella circostanza. Quindi, ma ripeto, sono delle mie libere interpretazioni. Poi non è che voglio puntare il dito contro o spalare feccia contro tutti. Vuoi soltanto capire che cosa ti è successo? Consentitemi di dire che le iniquità in questi licenziamenti che io chiamo senza vergogna coatti sono davvero tante perché un contratto privatistico non può essere sciolto così rapidamente in modo unilaterale. E poi questo tipo di scioglimento di contratto, secondo l'articolo 25 del contratto collettivo nazionale del lavoro, può essere esercitato per i contratti a tempo indeterminato. Quindi alcune cose riguardanti i contratti a tempo indeterminato sono state applicate su di noi. Ecco, diciamo, non voglio sputare sentenze anche perché non ne ho la facoltà, ma c'è veramente molta poca chiarezza. E tra gli auguri, ovviamente, oltre a quello di riuscire a risolvere questa situazione nel miglior modo possibile, magari anche di stabilizzare la tua condizione tramite, tu dicevi che non si fanno concorsi, insomma dal 2013 parlavi, la possibilità di non... Il bienio abilitante per gli insegnanti di strumento musicale, l'ultimo se non ricordo male è stato nel 2013. Comunque sono almeno sei anni che non ci viene data l'opportunità di abilitarci. Quindi è normale che se si apre uno spiraglio con i giudici lo cogliamo al volo. Penso che sia umano. Allora, tante discrasie, come abbiamo potuto vedere. Purtroppo in tutti i campi, questo non è un... immagino che non sia un sollievo, però siamo purtroppo in questa condizione. Io ti auguro un in bocca al lupo, magari ci aggiorniamo sperando di raccontare novità positive della tua vicenda. Speriamo bene Enrico. In bocca al lupo comunque ti vedremo in giro anche giornalisticamente a raccontare i tuoi concerti, perché comunque i tuoi anni di studi si vedono anche nelle tue esibizioni. Complimenti anche per quello. Vabbè, troppa grazie. Comunque non mi fermo qui e ti ringrazio per essere stato il primo ad avermi dato ascolto.